Piero, sposo, hai comandi, sopra la Valcama, Piero, una dichiarazione, è l'ultima cosa che faccio, se è colpa sua però, sia chiaro, per cui per andare a sinistra cosa facciamo? Trazioni, progressivamente, rettamente, un comando di sinistra, rilasci quella di destra, bravissimo, se mi stiamo andando a sinistra, attenzione, attenzione, tira a sinistra, grande, futuro pilota e futuro sposo! Ok, alla grande!